...e la larga è 25 mm Secondo me c'è lui ...e non so niente so che viene di una metà se non arriva avanti quindi quando lui ha metato ...per prepararsi al buon lato Signore e signori ...pa' incominare anche il progettatore famosa di noi nuovo applauso per... ...mi ragazzi ...mi ragazzi ...ma chiamata 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 Gian! 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 Here! Say hi!